Il Vasto Marina cade in casa contro il Montesilvano dopo una partita ricca di emozioni e gol decisiva alla rete di Barbarossa nel finale di gara. Ma andiamo per ordine, nei locali Mr. Borrelli schiera il consueto 4-3-3 con l'obiettivo di tornare alla vittoria dopo due stop consecutivi. Gli ospiti di Antignan in striscia utile nelle ultime due gare scendono in campo con il medesimo modulo. Pronti partenza via e subito doccia fredda per la squadra di casa. Lupinetti prende la mira dalla distanza e al primo minuto fredda Cuomo con un missile che si infila sul palo lontano. Questo il gol che merita il replay. Al settimo minuto ancora pericolosi gli uomini in maglia arancio con Maloku ma non trova la porta da ottima posizione. All'ottavo minuto arriva il raddoppio con Sammaciccia che dalla distanza fulmina Cuomo. Ecco il gol. Al nono il Vasto Marina corcia le distanze con Letto che la piazza a giro. Parabola imparabile per il portiere ospite. Al quindicesimo uno scatenato Letto incrocia con il destro. Ubertini respinge distinto con i piedi. Al ventinovesimo il Montesilvano nel momento migliore dei padroni di casa. Cala il Tris con Lupinetti che appoggia in rete da due passi. Tre ad uno. Al trentottesimo De Vizia calcia dalla distanza. La palla impatta sulla traversa con l'estremo ospite che tira un sospiro di sollievo. Al quarantacinquesimo ancora pericoloso il Montesilvano. Questa volta Cuomo risponde presente. Da qui a fine primo tempo non succede altro. Con le immagini di Edoardo D'Addario passiamo alla ripresa. Partono subito forte i padroni di casa. Al diciannovesimo il Vasto Marina corcia le distanze con un colpo di testa di De Vizia che deve solo appoggiare a rete. Un cross pennellato dalla sinistra. Al minuto ventuno espulso mister Borrelli per proteste costretto a lasciare il campo anticipatamente. Al ventiduesimo Malocu c'entra il palo da posizione defilata. Gol mangiato, gol subito. Infatti al ventitresimo il Vasto Marina perviene al pari con una rete di letto che sigla la sua doppietta personale e fissa il risultato sul 3-3. Al ventottesimo Ursini è strepitoso con un doppio intervento a salvare il risultato in particolare sulla seconda conclusione di Fieroni. Al trentottesimo ancora padroni di casa in avanti con una conclusione di Santone abbastanza angolata ma debole. Al quarantaseiesimo Barbarossa trova il gol del nuovo vantaggio ospite con una incornata precisa da palla proveniente da corner. E questa l'ultima azione degna di nota della gara che termina 4-3 per il Monte Silvano. Per il Vasto Marina arriva il terzo stop consecutivo. Forse una punizione eccessiva per quanto visto in campo oggi. Vi starei a barreria, lì va una sconfitta con il Monte Silvano. Primo tempo così così, poi nella ripresa siete usciti fuori. Peccato per poi averla persa alla fine. Sì, credo che tu abbia sintetizzato la gara a pieno. L'amarezza è tanta. È tanta perché poi nel calcio gli episodi determinano anche i risultati. Mi sono confrontato anche con la terna arbitraria a fine gara. Ma io era molto candida, ha messo l'errore tecnico. Quindi voglio dire, eri sul 3-3. Magari se si concretizza il vantaggio, fai gol. Magari la gara finisce così. Non è andata così, diventa difficile raccontarla. Quindi veramente, ha sintetizzato tutto. Probabilmente non siamo partiti bene. Abbiamo provato a rimetterla su, anche sotto il piano emotivo, nervoso. Siamo stati anche bravi a cavalcare le folate dell'entusiasmo. Poi, appunto, perderla così mi dispiace. Mi dispiace tantissimo. Tutto qui. Terza sconfitta consecutiva. La classifica si fa difficile anche in virtù degli altri risultati. No, ma la classifica era difficile anche prima. Non è che è una novità. Campionato veramente complicato. Ci sarà da battagliare su ogni gara fino alla fine. Per oggi veramente l'amarezza è tanta. Tanta perché poi altresì prendi gol il 4-3 sul secondo ballo. Barbarossa lo si sa che va lì. Un attimo di indecisione, un attimo di non attenzione. Ecco, gli episodi, no? Perdi la gara e c'è tanta amarezza. Mister Antignani, partita pirotecnica, poteva finire in qualsiasi risultato? Siete stati bravi fino alla fine a crederci? Bravi non direi perché una partita che vinci 3-1 e permetti di tornare sul 3-3, non direi che siamo stati tanto bravi. Il primo tempo è stato direi quasi perfetto. Il secondo tempo vuoi un po' il vento, vuoi un po' la stanchezza perché noi comunque domenica abbiamo giocato e loro erano più freschi. Vuoi un po' diversi fattori, magari eravamo messi in mezzo al campo. Abbiamo permesso di farci fare due gol che potevano costarci caro. Dopo ben venga l'erogol di Barbarossa che ci ha tolto le castagne dal fuoco. Sono tre punti importantissimi per noi. Montesilvano che adesso dove vuole arrivare? A fare in altri sei punti per sperare che possano bastare per salvarci matematicamente. Ma il che lo vedo impossibile perché tra i vari recuperi che spero mettano il prima possibile per non falsare il campionato e i vari sconti diretti che ce ne sono ancora tanti, io non lo so la quota che quest'anno quale sia la quota salvezza perché è veramente impensabile quello che sta succedendo. Non è mai successo secondo me in eccellenza. Io ho 12-13 anni che ho fatto eccellenza a calciatore. è mai successo se 10 squadri in 7 punti. È una cosa che io non ho mai visto.